Ha influenzato, ha condizionato il possibile ritardo del voto sulla piattaforma Rousseau? Cioè si temono dei dissensi forse più numerosi di quelli che erano stati preventivati oppure no? Te la dico brutale, secondo me la chiave di lettura politica di questo eventuale ritardo si traduce così si vota soltanto quando siamo sicuri che vinceranno i sì. Sono ironico fino a un certo punto, ma secondo me c'è un po' di paura in Grillo, in Di Maio, nel Movimento 5 Stelle e quindi in una maniera francamente inaccettabile. Se così fosse si aspetta, si fanno calmare le acque, magari si aspetta un bel video di Grillo che dice votate sì, poi si aspetta un altro endorsement di Conte, fino a quando si è sicuri che vinca il sì. Io non credo che se anche si votasse domani vincerebbero i no. Tra l'altro oggi Di Battista ha un po' tarato le cose perché ha detto voto no, ma secondo me la strada giusta sarebbe l'astenzione. Cioè si fa partire il governo Draghi e poi si vede, a volte votando sì, a volte votando no. Però questo eventuale ritardo secondo me si legge in una maniera molto semplice. C'è forse ancora un leggero rischio che possano vincere i no, aspettiamo ancora qualche ora o addirittura qualche giorno così sicuramente vinceranno i sì.